Un lunghissimo e caloroso applauso ha accolto Liliana Segre nella tenso struttura allestita a Rondine, cittadella della pace, per la sua ultima testimonianza pubblica dopo oltre 30 anni di impegno civico. La senatrice a vita, simbolo della memoria del dramma della Shoah, ha scelto infatti di parlare alle scuole italiane, ai giovani nel mondo, per l'ultima volta dal borgo aretino, affidando così ai ragazzi e nemici di Rondine il suo testamento morale. C'è un momento in cui una persona di 90 anni, come sono io, dice beh, basta, adesso mi riposo, adesso non voglio più ricordare, non voglio più soffrire. E ricordandomi da sempre l'effetto che Rondine mi aveva fatto così tanti anni fa, questa che allora era un'utopia, che allora era un sogno di poche persone e di buona volontà, che vedevo come qualche cosa di impossibile e che invece qui nella piccola realtà di allora, piccolissima, modesta realtà di Rondine, si cercava di fare. Era un inizio, un inizio straordinario. Per l'ultima volta Liliana Segre ha ripercorso la storia della sua vita, partendo da quella bambina che nel settembre 1938 diventò l'altra. Una delle cose più crudeli fu quella di far sentire i bambini invisibili, perché in realtà io lasciai quel banco obbligata, io lasciai quelle compagne, allora erano scuole femminili o maschili, maschili le mie compagne, ma furono pochissime, furono solo tre che si ricordarono per tutta la vita quella compagna di banco. Le altre non si accorsero che il banco era vuoto e molti anni dopo, dopo la guerra, rincontrandole ormai signorinette, come ero diventata anch'io, mi ditero ma tu Segre, ma dove sei andata a finire, che non ti abbiamo più visto? Avrei dovuto rispondere Auschwitz, avrei dovuto rispondere... Non ho risposto. Poi la deportazione, le umiliazioni, la disumanità e gli orrori dei campi di concentramento. Entrammo nella prima baracca, noi così con i nostri vestiti come eravamo scesi da quel treno e lì cominciamo a capire che dovevamo dimenticare il nostro nome. Voi d'ora in poi sarete un numero e vi viene tatuato un numero sul braccio così ben fatto che dopo tanti anni anche il mio si legge perfettamente 75-190 e poi spogliate, rasate, vestite, ci tolsero tutto. La memoria poi è andata all'amica Janine che la Segre non salutò prima che venisse condotta nelle camera gas di Auschwitz. Un giorno la macchina le tagliò due falangi di due dita di una mano e quando fumo chiamate alla selezione quel giorno lei terrorizzata trovò uno straccio ma quando si è nudi lo straccio si nota e coprì quelle due dita che erano state in qualche modo ricucite in un ambulatorio drammatico. Beh, io ero passata lei era dietro di me sentì che la fermavano che la scrivana prendeva nota del suo numero sul braccio non serviva più andava il gas e io e io che ero appena passata e che tutti i giorni lavoravo con lei sono stata orribile così ero diventata io non mi sono voltata il suo andare al gas e non diventare vecchia e non diventare madre e non diventare nonna e non diventare quella donna che sarebbe stata è legato al mio non essere il mio aver perso ogni dignità ogni senso di quella persona che io poi speravo di diventare ma non sapevo allora come sarei diventata ero solo in quel momento quella prigioniera che si era salvata in quel momento e non le importava di nient'altro una testimonianza della più grande tragedia dell'umanità che però non ha ceduto al male come racconta la stessa Segre successe una cosa incredibile e straordinaria mi camminava vicino il comandante di quell'ultimo campo era un uomo alto elegante si mise in mutande vuole buttare via la divisa butta via la pistola io mi ero nutrita di odio e di vendetta lasciando la mano sacra di mio padre man mano giorno dopo giorno ero diventata un'altra quella che loro volevano che io diventassi un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta pensai adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo perché mi sembrava proprio un giusto finale di quel periodo incredibile in cui io ero stata una testimone ed ero viva ancora quel giorno fu un attimo fu un attimo importantissimo decisivo nella mia vita perché io capì che mai per nessun motivo al mondo io avrei potuto uccidere qualcuno che io non ero come il mio assassino non ho raccolto quella pistola e da quel momento finisco sempre così sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti